Piccolo video proseguendo su questo viaggio delle 100 cose di One Piece perché tenendo conto di tutti gli strohets ce n'è uno che forse è ancora il più misterioso rispetto agli altri e che potrebbe riservare delle sorprese incredibili ed è naturalmente Brook. Leceroda ci ha mostrato nel corso di questi 1037 capitoli alcune sorprese di tanto in tanto facendoci vedere che spesso e volentieri anche nei confronti dei protagonisti principali, anche nei confronti dei vari membri della ciurma dei pirati di cappello di paglia, alle volte noi non conosciamo determinati pezzi del loro puzzle personale pensate anche solo al mini flashback che abbiamo visto in quel di Wano Kuni nel corso del combattimento tra Zoro e King oppure pensate a quella che è stata tutta la backstory di Sanji noi pensavamo che il passato di Sanji ci fosse già stato mostrato all'inizio lì nella saga del Barati mentre invece poi abbiamo scoperto che Sanji aveva tutto un sostrato che non conoscevamo così come abbiamo visto a più riprese dei momenti nel quale Oda si è focalizzato sull'infanzia di Rufi e ci ha fatto vedere non solo il momento in cui Shanks è arrivato e lo ha trasformato idealmente nel Rufi che poi sarebbe diventato ma abbiamo visto anche tutto quello che è stato il passato con Ace, Garp, Dadan, Sabo eccetera 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 e c'è un momento particolare all'interno di Thriller Bark dove Brook racconta che in passato lui è stato il capitano del membro più importante di un gruppo di incursori di un famigerato regno il che potrebbe spiegare molte cose potrebbe spiegare la sua perizia nell'utilizzo della spada potrebbe spiegare la sua intelligenza tattica nel corso anche delle battaglie perché di Brook tutto sommato noi conosciamo quella che è stata teoricamente la sua parte finale della vita ovvero non sappiamo per quale motivo lui si sia imbarcato a bordo della nave della ciurma dei pirati Roombar non sappiamo nulla nulla di nulla sulla sua vita precedente a quella di musico di bordo con i pirati Roombar sappiamo solo che ha fatto il pirata, andava in giro, suonava a un certo punto della sua vita si è imbattuto in Crocus e in Lovun piccolino e poi la sua ciurma è stata massacrata e lui è rimasto alla deriva fermo per decenni in attesa che qualcuno tutto sommato lo liberasse dalla maledizione non tanto del suo stesso frutto quanto della solitudine e quindi quello ha fatto in modo che Brook diventasse non solo un personaggio iconico non tanto per il fatto di essere uno scheletro canterino con l'afro ma proprio per via di questa sua storia, per questa sua dicotomia lui è un personaggio tutto sommato sempre molto allegro che cerca di infondere allegria negli altri ma poi ha questa porzione di storia che è veramente molto triste per decenni è rimasto da solo in compagnia delle sue memorie e probabilmente in compagnia di quelli che sono stati i suoi rimorsi eppure io sarei molto curioso di conoscere la storia pregressa di Brook anche perché poi, tenendo conto di nuovo di tutto quello che Le Chiro Sensei ci ha mostrato Brook è un personaggio che molto lentamente ha cominciato a prendersi e ad essersi preso sul serio all'interno, diciamo, delle dinamiche degli Strohets lui incontra Rufy e i suoi compagni e poi tutto sommato quasi immediatamente viene sbalzato via e deve rincontrare quello che lui ha deciso essere il suo capitano direttamente dopo due anni quindi anche noi come lettori non abbiamo avuto modo di simpatizzare né di empatizzare sul serio con lui è solo nel post-time skip che lo cominciamo a conoscere meglio fin poi ad arrivare a quella che è indubbiamente la sua enorme grande saga che è Whole Cake Island all'interno del quale letteralmente giganteggia quella splash page magnifica nella quale Brook cerca di fronteggiare da solo Big Mom con Zeus e Prometheus al massimo della potenza chiamando addirittura Big Mom signorina perché dal punto di vista anagrafico effettivamente Big Mom è molto più giovane di Brook e quindi per Brook Brook è un vecchio Big Mom invece è una ragazzina quindi gli potrebbe anche andare bene in un eventuale ship così come tutta la parte veramente strategica nella quale effettivamente Brook tanto proprio su Whole Cake Island anche ci sono anche dei momenti a Pancazar dove proprio risplende finalmente ma quel di Whole Cake Island nel momento in cui c'è la guerra c'è il parapiglia lui esce quasi da nulla e fondamentalmente diventa il fulcro di quello che doveva essere la strategia di Capone e di Rufy però quello di distruggere la fotina la fotina di Mother Carmel proprio ti fa capire che abbiamo di fronte un personaggio molto fuori dagli schemi che pensa molto fuori dagli schemi perché evidentemente è abituato così come se pensiamo anche a tutto il supporto che ha dato agli Strohez e che sta dando agli Strohez senza andare nei particolari con gli spoiler in quel di Onigashima ti fa capire che Brook è un personaggio particolare peculiare io sono veramente convintissimo che Lichiro Sensei prima o poi ci faccia lo scherzetto ovvero ci faccia vedere ci mostri finalmente un qualcosa di più io me lo auguro sul serio perché tutto sommato è un personaggio di cui abbiamo visto molto poco ed essendo uno dei membri fondamentali della ciurma del futuro re dei pirati è davvero un peccato non saperne di più però quest'altra sono curioso sono curioso perché le altre volte ho parlato io chiaramente però sono curioso fatemi sapere voi che cosa ne pensate magari voi avete qualche idea più particolare magari voi vi siete fatti un'idea più personale di questo personaggio che io ammetto candidamente ho solo imparato ad amare sul serio con tempo io ricordo e questo di nuovo è davvero un momento fissato nel tempo di chi c'era che sin da subito sin da quando Brooke è apparso nei capitoli settimanali di One Piece la quasi la quasi totalità del fandom che leggeva i capitoli settimanali oppure che leggeva le scan lo ha amato proprio per via di questa sua leggerezza e poi lo sapevamo Rufy sin davvero dei primissimi capitoli desiderava avere il musicista a bordo non gli interessava nulla del cuoco non gli interessava nulla del medico una delle prime cose si voglia un musicista io invece ammetto che ho fatto molta fatica tantissima con Brooke ad affezionarmi e ad affezionarmi perché mi sembrava davvero una sorta di personaggio che Oda ti ha calato dall'alto giusto per invece poi per fortuna col passare del tempo col passare degli anni col passare dei capitoli grazie proprio a questa sua intraprendenza è un personaggio che ho iniziato ad apprezzare però fatemi sapere voi sono molto molto curioso sezione commenti qui è sempre a vostra disposizione raccontatemi voi alla prossima